Ancora una volta riscontro che trascorrete giornate e settimane a spartirvi poltrone e neanche dieci minuti a valutare gli ordini del giorno. Onorevole Ruocco, parli a favore. Per noi il lavoro è qualcosa di serio. Abbiamo bisogno di dieci minuti di riflessione. Colleghi, lasciate concludere l'onorevole Ruocco. Colleghi. Sbagliate la riflessione e l'interesse per i cittadini per opposizione. Sic et simpliciter, ma di che cosa stiamo parlando? Un Parlamento che è stato fermo per una settimana perché avete litigato e avete cambiato governo da soli. Dieci minuti. Colleghi, lasciate concludere la deputata Ruocco. Come si deve articolare, forse potrete anche concederle a questa opposizione. O decidete di ghiottinarla ogni volta che pensa all'interesse dei cittadini. Bene.